C'è stato Adamo ed Eva, paradiso terrestre, ad un certo punto Adamo fa tardi, alla sera rientra, Eva guarda e gli fa Dove sei stato fino a quest'ora? Non è che mi tradisci con un'altra donna, gli fa ma che cazzo stai a dire? Ma se siamo solo io e te qua, vieni un po' qua, fammi contare i costi, lo vanno?